Musica Buonasera, ben trovati a Primo Siter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto, vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Puntate che si divide in due parti, nella prima parleremo di sanità, mentre nella seconda parleremo del festival di Sanremo, di tutto quello che è successo ieri, del gara successo che ha avuto, di cantanti che si comportano in maniera un po' vergognosa, se qualcuno ha detto che ha fatto apposto l'ognomione, parleremo nella seconda parte, nella prima, come dicevo, parleremo di sanità veneta e ospite abbiamo, la ringraziamo, l'assessore della sanità della regione Veneto, Manuela Lazzanini, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Ora se io ormai non chiedo più come va, perché tanto è la prima mia domanda di solito che faccio, ormai diventa una consuetudine. Invece comincio tutte le problematiche, possiamo già mettere il titolo della televisione, mancano medici e infermieri, ma mancano anche e soprattutto, assessore Lazzanini, medici di base. E ci sono giunte molte notizie che in molti paesi, in molti esagimi, ma in parecchi paesi, hanno la mancanza, l'ultimo le dico era verso Mestri, verso Chiesa Nuova, da quelle parti di Rubano, Mestri, insomma, che non hanno il medico e devono fare molti chilometri per poter avere questo supporto sanitario. Cosa si può fare? Ma intanto bisogna che diciamo che non è una novità che mancano medici, perché se ne parte... Ma di base così, io non ricordo così... No, no, di base sicuramente, i medici di famiglia è esplosa sicuramente da un anno a questa parte. Non ricordo così tanti. Però che ci sia, e noi tutti eravamo consapevoli di un problema, di una programmazione nazionale sbagliata, che avrebbe portato a un imbutto come quello che si è verificato, lo sapevamo già molti anni fa, insomma, prima del Covid, ma se guardiamo anche nei vari provvedimenti, penso al patto per la salute del 2015 e poi quello del 2018, dove le regioni avevano comunque detto che le borse di specializzazione non bastavano, che forse il numero chiuso all'università oggi non era quello che serviva. Cosa succede? Succede che con il Covid, con l'emergenza dei due anni e mezzo o tre, questa problematica è esplosa. È esplosa anche perché noi sappiamo che abbiamo attraversato due anni e mezzo molto difficili, soprattutto per quanto riguarda gli operatori sanitari tutti, quindi sia i medici ma anche le professioni sanitarie, con carichi di lavoro enormi, con un clima anche interno molto pesante, insomma, non solo da un punto di vista lavorativo e fisico, ma anche psicologico. E quindi oggi noi assistiamo anche a questa fuoriuscita, prima dal sistema sanitario, alla ricerca anche di una qualità di vita migliore, quindi in contesti che possono permettere una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, oppure, insomma, ritmi diversi rispetto a quelli che oggi ci sono in molte aziende pubbliche. E quindi oggi il fenomeno è esploso in una tragicità, se vogliamo, anche molto molto forte. Noi l'ultimo dato che avevamo è quello che ci dice che mancano circa 1150 medici ospedalieri e mancano soprattutto in alcune categorie più di altre. Emergenza, urgenza, pronto soccorso, non troviamo più nessuno e soprattutto i bandi nuovi aperti, sia a Verona che a Padova, non vengono ricoperti. Cioè nessuno vuole più iscriversi alla specializzazione emergenza, urgenza. E quindi qua c'è un primo problema, che è un problema nazionale rispetto a una professione, a un settore, che è il front office, che deve essere tutelato. Ma l'avete messo sul tavolo di lavoro? Mamma mia, abbiamo centinaia di proposte che noi abbiamo fatto al governo. Ah, quello di prima, le abbiamo reiterate adesso, ma però finora non trovano nessuna, diciamo così, soluzione. Tutti noi siamo consapevoli che in pronto soccorsi c'è una tensione forte, il problema delle aggressioni, il problema della sicurezza, il problema dei carichi di lavoro, il problema che in pronto soccorso con molta difficoltà si fa carriera professionale, quindi probabilmente vanno pagati in maniera diversa, eccetera. Però oggi non c'è una soluzione nazionale. Noi se vi ricordate come Veneto abbiamo proprio fatto quella proposta che ci è passata, che paghiamo 100 euro i nostri dottori delle altre aree se vanno a fare delle prestazioni aggiuntive nei pronti soccorsi per aiutare i loro colleghi del pronto soccorso. Questo per evitare anche quel fenomeno, e credo che ne parleremo, dei medici a gettone, delle cooperazioni sociali, insomma, che oggi noi siamo costretti a cedere. Perché mi scusi, se ne interrompo, se ci sono i medici a gettone, vuol dire che i medici ci sono? Domanda, se i medici ci sono e c'è questa difficoltà, lo Stato, chi per esso, perché non aumenta la busta paga? Questo è un altro problema, cioè io credo che... Non so se la domanda... No, no, la domanda è pertinente. Io credo che oggi siamo consapevoli che non è un problema del Veneto, non è un problema di un'azienda del Veneto, non so, della Berica, della Pedemontana, della Scaligera, piuttosto che della Veneto orientale. È un problema nazionale, non è un problema Veneto. Tutti, perché basta che apriamo qualsiasi giornale, qualsiasi prima notizia del pronto soccorso, quando vediamo che ci sono i pronto soccorsi che sono in crisi, con barrelle, con persone che non vengono seguite, eccetera. Noi abbiamo fatto veramente tante proposte, però oggi la mia sensazione è che ancora non c'è questa consapevolezza che il problema veramente è un problema che deve essere affrontato subito e il problema deve essere affrontato in varie direzioni. Allora, sicuramente la parte retributiva. I nostri medici, i nostri infermieri, i nostri operatori soggiosanitari vanno pagati, almeno quanto i loro colleghi europei. Questo non c'è dubbio. E quindi bisogna agire sulla parte retributiva. Non lo possono fare le regioni perché qui c'è la contrattazione a livello nazionale. Ci deve essere sicuramente una tutela maggiore, quindi tutto il discorso legato ai contenziosi, alle denunce, alle aggressioni anche che ci sono, quindi da un punto di vista di sicurezza. E dobbiamo anche mettere in campo sicuramente tutta una serie di meccanismi affinché ci sia un'organizzazione, un clima aziendale più sereno che oggi non c'è. E cosa fa sì questo clima non sereno? Che molti si licenziano nel pubblico e vanno nel settore privato oppure rimangono dei libri professionisti perché sanno che noi siamo costretti per garantire i livelli essenziali di assistenza ILEA a chiamarli e sono i cosiddetti medici a gettone che quindi fanno la loro prestazione su chiamata e noi li paghiamo, le aziende li pagano a volte molto di più di quelli dei medici che sono inseriti e sono medici pubblici. Però no no, però no no, però no no, però giusto ma mi soffermo su molti passaggi. Ho invece l'impressione B di quello che lei mi ha detto. Ho l'impressione che ci sia la volontà non detta di privatizzare il più possibile la sanità in Italia. Ho questa strana impressione che si è studiata a tavolino perché se c'è la possibilità di avere questi medici con un gettone in più e lo Stato, uso e dico lo Stato, sa che può fare questo mi viene il dubbio che non sia una strategia, visto che se la sanità è il bilancio più costoso di tutta l'Italia di iniziare a far pagare la gente per curarsi, dice un vecchio proverbio, non ritorno al proverbio però secondo lei ci sono tanto lontano o c'è qualche... Io non lo so, mi auguro di no e spero proprio di no, perché il nostro è un sistema universalistico cioè noi garantiamo la salute e curiamo tutte le persone indistintamente ed è un privilegio che noi abbiamo a livello nazionale e dobbiamo salvaguardare il nostro sistema sanitario nazionale. Io credo che invece dovremmo sempre più cercare di incentivare il pubblico. Assessore, succede che magari lei ha bisogno di un intervento, ha il tempo d'attesa di 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi e va all'interno dell'azienda ospedaliere, la stessa azienda ospedaliere che lo può fare va a pagamento e... Allora, insomma, questa è la possibilità che è prevista a livello nazionale dell'introconia all'interno... Medico, anestesista, infermiere, tutto lo staff che lavora è libero e può fare un intervento se lo pago. È questo che mi fa venire il dubbio... No, ma è difficile da spiegare perché ci sono dei meccanismi tipo quello... Provi a spiegarmelo. No, è difficile nel senso che ci sono i meccanismi tipo degli orari che si devono rispettare di lavoro, quindi non si può fare il cosiddetto straordinario in maniera non regolamentata. Questi medici, questi infermieri poi invece nella libera professione lo possono fare. Ma lo fanno all'interno dell'azienda ospedaliere? Perché sono quelli che lo possono fare, lo prevede una legge nazionale questo. Però all'interno di quell'azienda ospedaliera ne guadagna il 30% il medico, il 20% l'anestesista, il 10% l'infermiera e il 50% l'ospedale. E certo, perché mette a disposizione le attrezzature, i locali e tutto il resto. E quindi mi dà a pensare, per il ragionamento che facevo prima, che c'è la volontà di cominciare a fare questo sistema. Ma io non lo so se c'è questa volontà. Che ci sia una difficoltà reale, sì. Che il sistema sia un sistema in crisi anche. Che però il pubblico e anche nell'emergenza Covid abbia dimostrato di essere fondamentale e di essere un valore aggiunto, credo che l'abbiamo capito. No, su questo non c'è dubbio. Quindi dovrebbero averlo capito anche quelli che legiferano e cercano di dare un'impostazione. Noi, non a caso, siamo stati noi Veneto a scrivere ai ministeri competenti e si è aperto il tavolo due settimane fa con tre ministeri per dire questo fenomeno dei cosiddetti medici a gettoni o delle cooperative sociali che stanno drogando, non uso a caso questo termine, stanno drogando il sistema. Perché se uno poi, facendo un turno, prende di più del collega che invece si ammazza di lavoro... Oh, le 12 ore prende 1.200 euro. ...e si ammazza di lavoro per tutta la vita e per caso rimane anche a quel livello quindi non ha neanche la possibilità di crescita, di fare carriera, insomma, di valorizzare la sua professione. È chiaro che c'è una distorsione del sistema. Quindi c'è un tavolo nazionale, ministeriale, in cui c'è il Ministero della Salute, il Ministero della Funzione Pubblica, il MEF, c'è tutti i ministeri attorno a questo tavolo perché noi abbiamo detto, noi come regioni e il Veneto fa parte di questo tavolo, vi diamo tutte le caratteristiche, le condizioni affinché voi fate un intervento normativo per bloccare questo perché non è corretto, non è giusto, ma soprattutto il medico che arriva a gettone e fa un turno non dà quella garanzia, chiaramente, è un medico, sempre un medico, ha studiato, quindi è chiaro che ha la propria competenza, le proprie capacità, ma non dà quella continuità, quella garanzia di chi invece lavora lì, è stabile lì, conosce i meccanismi, conosce i pazienti, quindi diventa anche un sistema da questo punto di vista non così virtuoso e lineare. E quindi? Perché è tutto giusto, siamo coscienti che la situazione è questa, però gli ammalati ci sono tutti i giorni. Però noi più che insistere con il livello centrale, fare le proposte, perché le regioni stanno facendo le proposte per il personale che manca, per cercare di tamponare in tutti i modi, ma se a un certo punto queste proposte non vengono recepite da livello nazionale, noi siamo bloccati. La capisco e capisco anche le difficoltà. Perché è vero che dicono che la sanità è regionale, ma le regole non le facciamo noi. Non le fa la regione, la capisco perfettamente perché immagino conoscendola poi che è stata anche sindaco, lei farebbe le cose già oggi per oggi, quindi capisco le difficoltà, però io devo farle queste domande. Allora in virtù di questo succede tutto quello che lei ha spiegato, lo Stato fa questo. Però il paziente si ammala. Il paziente va dalla Manuela Lazzariene e dice, senta Assessore, io vado qua al pronto soccorso o per un intervento e attendo sei mesi. Devo aspettare i vostri comodi perché venga fatto qualcosa sul mio corpo oppure devo morire? Oppure mi date una mano in qualsiasi sistema che solo la politica può trovare per sistemare? No, guardate, sul discorso della tempistica delle liste d'attesa, noi abbiamo avuto un grosso problema che è quello legato al Covid e ai due anni e mezzo in cui abbiamo per quattro volte, mi sembra, bloccato le attività e quindi abbiamo accumulato. Oggi abbiamo recuperato quasi la totalità di tutte quelle famose 500.000, circa 450.000 prestazioni tra interventi che non hanno stati fatti, quindi recovery, interventi, tutte le visite specialistiche ambituali e tutti gli screening che erano saltati. Li abbiamo recuperati quasi al 100%, vorrei dire insomma un 90, poi c'è la divisione tra interventi, tra specialistica, ma insomma oltre il 90%, quindi c'è stato un buon recupero. È chiaro che poi continua a crescere la domanda, le prescrizioni, cioè la gente chiaramente che non si era fatta una visita, aveva aspettato e adesso è arrivata giustamente. E oggi il, diciamo così, il connubio, mancanza di personale, recupero di quelle precedenti, ha creato queste frizioni. Allora è chiaro che abbiamo cercato in tutti i modi di o fare prestazioni aggiuntive, quindi poter permettere di fare prestazione ai nostri dopo gli orari di lavoro, il sabato, la domenica, quindi anche durante i festivi. hanno comprato anche budget o aumentato i budget rispetto ai privati accreditati, quindi i privati che già lavorano con noi dicendoci date una mano, vi diamo un po' di budget in più, però purtroppo la situazione è una situazione. Mi fa specie, Assessore, perché in questo momento ci sono i soldi del PNRR che... Che però non c'è nulla per questa cosa qui. No, solo per le infrastrutture, allora sotto l'aspetto infrastrutture va tutto bene, arrivano dei nuovi macchinari pronto, la Regione Veneto è subito pronta a farlo, però non ha investito una parte cospicua di quel fondo sotto l'aspetto umano, non è che sia stato fatto un errore lì. Ma voi tenete conto che noi siamo ancora soggetti al tetto del personale? Cioè noi non abbiamo libertà di assumere, se noi raggiungiamo il tetto del personale che è quello calcolato ancora anni fa, noi oltre quel tetto non possiamo andare, quindi anche se abbiamo i soldi, abbiamo un tetto del personale che ci viene dato a livello nazionale, quindi anche se ci fosse il personale che oggi non c'è, non troviamo, oltre quel tetto noi non possiamo andare. Io dico, se oggi ho un ristorante che vengono dieci persone e ho due camerieri, domani me ne vengono cento, non posso mettere quattro camerieri? No, se noi abbiamo raggiunto il tetto del personale previsto per legge nazionale, calcolato minimo dieci anni fa mi sembra, calcolato minimo dieci anni fa e non rivisto, noi oltre quel tetto non possiamo andare. Cioè ci sono dei meccanismi che io mi rendo conto che è difficile spiegare alla signora Maria, alla gente che chiaramente aspetta la visita, aspetta di essere chiamata per farsi la cataratta, insomma, e quindi è difficile spiegare, però è un meccanismo molto articolato. La mia speranza è quella che questo governo ci sia veramente la volontà di rimettere al centro la salute, la sanità e di anche andare incontro a quelle che sono le esigenze. E qual è la percezione che ha? Finora, devo dire la verità, non è una buona percezione. Io sono molto schietta e molto sincera. Finora, per carità, saranno passati i primi cento giorni, ma finora io non vedo rispetto alle istanze che noi come regioni abbiamo messo sul tavolo che ci sia una risposta. È vero che c'era il caro energie, c'è la guerra, insomma ci sono stati tanti problemi che hanno problemi contingenti, però io mi auguro che il salto di qualità sia quello di mettere al centro dell'agenda la sanità, perché abbiamo capito durante il Covid, mi scusi, che senza salute si ferma il progresso, si ferma il sviluppo. Noi con l'emergenza abbiamo dovuto fermare tutto, bloccare le imprese, bloccare le fabbriche, eccetera. Quindi l'investimento in sanità è un investimento in sviluppo? Bisogna che lo consideriamo in questo tempo, in questo modo? Non mi dà una beratrice, mi dice che non è la percezione che lo Stato intervenga In questo momento siamo fermi, devo dire la verità, sono molto schietti. In questo momento gli interventi che noi abbiamo chiesto come regione, finora non abbiamo avuto risposta. E quindi facciamo così, lei al microfono alla telecamera deve dire ai pazienti cosa devono fare se si ammalano? No, ma i pazienti se si ammalano allora, guardate, siamo onesti. Sto cercando di provocare oggi, hai capito? Sì, ma no, siamo onesti. Noi viviamo in un paese in cui uno ha garantito l'assistenza al diritto della salute. Non funziona così in America, non funziona così in altri Stati, ok? C'è un altro sistema. Tanto diciamo questo e cerchiamo di valorizzare questo. Io dico ai pazienti e al signore che ci guardano che sicuramente ci sono e lo sappiamo, siamo consapevoli oggi dei disservizi, ma vengono comunque, c'è la presa in carico, insomma, le nostre è una sanità ancora buona, di eccellenza, virtuosa, che fa numeri importanti. Su questo dobbiamo dirlo, perché sennò saremmo degli ipocriti se non lo stonioniamo. È sicuramente una sanità di eccellenza, però adesso l'ha accennato lei prima per il motivo che abbiamo parlato finora economico, molti scappano e vanno in altri lidi all'estero, qualcuno ovviamente in un ospedale privato, in aziende private, quindi c'è anche oggi realmente questo problema da risolvere. No, questo è un problema reale e va nel calderone della programmazione sanitaria, negli interventi per il personale, che ripeto, non sono solo interventi retributivi, paghiamo di più i nostri medici, giusto, sacrosanto, ma anche li tuteliamo a 360 gradi e quindi facciamo sì, insomma, che ci sia un percorso in cui il clima organizzativo, cosiddetto azientale, dentro delle strutture, sia un clima sereno e permetta di rimanere lì, di voler andare in quella struttura. Mi risulta, mi correga se non dico una cosa esatta, che un medico della regione Veneto, di uno che fa parte delle US del Veneto, possa essere richiesto da una RUSD dell'Emilia Romagna e viene retribuito di più. È possibile un passaggio del genere? No, allora... Perché ho sentito che questa... No, allora, gli stipendi sono stipendi uguali per tutti, perché il contratto è il contratto nazionale. Sì, però c'è qualcosa... La composizione dei fondi integrativi di ogni singola azienda che sono stati costruiti nel tempo, quindi risalgono, insomma, a molti anni fa e ogni singola azienda ha costruito i propri fondi integrativi in maniera diversa. Facciamo l'esempio, siamo a Padova. L'azienda ospedaliera di Padova ha il fondo integrativo più basso di tutte le altre aziende del Veneto. Cosa vuol dire? Vuol dire che i medici dell'azienda ospedaliera di Padova prendono, per assurdo essendo invece un'azienda con alta specialità, meno di qualche altro collega di Treviso, piuttosto che di Venezia, cito due a caso, oppure ecco. È chiaro che noi cosa abbiamo fatto in questo caso? Abbiamo fatto gli interventi che eravamo in grado di fare noi come Regione Veneto e quindi nel corso degli anni abbiamo aumentato e messo delle risorse in più, che non sono sufficienti però. Abbiamo chiesto però anche qui a livello nazionale di poter aumentare la percentuale di costruzione del fondo integrativo senza chiedere soldi. I soldi ce li mettiamo noi, ce li abbiamo, però alziamo dall'1% al 2%, che per il Veneto vorrebbero dire 40 milioni in più, da mettere per la ricomposizione dei fondi integrativi di tutte le aziende sanitarie e di equipararle tutte uguali. Perché se no oggi la soluzione sarebbe quella di togliere a chi prende di più e dare a chi prende di meno. Non è una soluzione, bisogna invece che li portiamo tutti a livello più alto. E questo in che tempo? E questo lo stiamo provando a insistere su un emendamento da inserire anche nel Mille Proro, che io ci ho provato anche non più tardi di ieri, capire se ci fanno inserire questo emendamento sul Mille Proro, che è a costo zero per il Governo. Era un emendamento che era passato in Commissione Salute, in Conferenza delle Regioni. Alcune regioni non interessa nulla e non avrebbero soldi da mettere, però non gli cambia la vita. Per noi, ripeto, invece, che viviamo questo problema, sarebbe molto importante. Non lo so se avrà buon fine, non lo so. E quando avrà la risposta se sì o se no? Ma il Mille Proro è un provvedimento similare, insomma sono provvedimenti che stanno andando in queste settimane sia alla Camera o al Senato o di qua o di là, non mi importa dove. L'importante è che un provvedimento consono venga inserito. L'abbiamo scritto noi, gliel'abbiamo dato. Entro fine febbraio? Se c'è la volontà di farlo, sì. No, o sì o no, la risposta dico quantomeno per capire. Ah, certo, certo, sì, fine febbraio, primi di marzo, penso di sì. Capiremo se trova spazio all'interno dei provvedimenti che sono in itinere al Parlamento. Andiamo a pubblicità, poi tante cose da chiedere tra poco.